Peter Pan, Peter Pan nel 2023. Mi vengono in mente le audizioni del 2006. Peter Pan nasce in questo teatro. È un'eccellenza italiana questo spettacolo. Stiamo cercando un cast eccezionale. Stiamo vedendo tantissimi artisti. Mi auspico che la nostra forza sia quella di trovare dei nuovi caratteri, dei nuovi colori, persone che vogliono cimentarsi in questo che ormai è un classico. Peter Pan è un classico, però con le musiche di Edoardo Bennato diventa unico. Grazie! Si cercano proprio dei caratteri molto particolari. I bambini sperduti devono essere piccini, gli indiani, i pirati devono essere molto alti. Cerchiamo anche dei suoni un po' particolari, quindi anche una ricerca di voci che proprio rappresentino i vari personaggi dello spettacolo. La sfida di queste audizioni sarà sicuramente trovare un Peter Pan. Un viso nuovo, una voce nuova per dare la giusta freschezza a questo personaggio. L'unico che abbiamo in questo momento è Joe Di Tonno che interpreterà Capitano Uncino. Figura rock dura. Verranno un paio di generazioni che l'hanno già visto e accompagneranno magari delle nuove generazioni. Una storia così importante come Peter Pan potrebbe durare veramente in eterno. Peter non vi vecchia mai. Io spero solo di avere un casta eccezionale perché questo spettacolo è pazzesco e continuerà ad esserlo, speriamo anche nelle prossime edizioni. Ciao!